Anche Maldonado, ancora Arcadio, il cross per Cellini, in area Cellini, si gira e porta i conti a Cernucia, Cellini! A mettere questa palla in mezza, qui lo possiamo rivedere, guardate, e ha trovato il suo compagno libero. Ha avuto la possibilità di controllare questa palla, girarsi e calciare in ponte. E' stato anche un po' fortunato che Cellini, che secondo me non voleva cercare questo tipo di giracchi per entrare. Qui Pia, ci prova, ancora Pia, non va ad entrare Pia, ha messo giù a terra per Cellini, rimesso dal fondo. Rimesso dal fondo, Pia ha finito a terra, rivediamo il contrasto con Accursi. Accursi gli mette la mano davanti e lo mette giù. Peppe Savoldi? La mano c'è stata, la mano, eccola qua, sopra la spalla, ha impedito chiaramente a Pia di proseguire. Ah no, Maldonado, parte Fontana, col sinistro, palla a giro! Pinsan che parata su Fontana, una parata straordinaria di Pinsan sul sinistro telecomandato di Fontana. Bellissimo tiro, guardate come calza ad incollo interno Fontana.